Ecco, buonasera, grazie per questa opportunità che ci date anche a noi di questo settore economico sempre un po' bistrattato. Io devo ringraziarvi per questo momento di ascolto che serve anche al nostro mondo per portarvi all'attenzione alcune problematiche importanti perché da sempre sull'agricoltura ci siamo fondati sui valori più importanti della nostra Stato che sono stati portati avanti nella storia e che oggi ancora vengono in parte portati dalle nostre aziende. D'altronde noi siamo radicati nel territorio, le nostre aziende vivono sul territorio, è vero ormai stanno anche investendo all'estero ma la parte pensante è sempre qui in Italia e comunque noi da questo territorio dipendiamo per contribuire anche alla crescita delle nostre aziende, alla crescita dell'agroalimentare italiano che voi sapete rappresenta una parte importante del nostro PIL in senso lato perché parliamo tra il 13 e il 15 per cento di cui l'agricoltura e il settore primario è sicuramente minoritario ma è una parte essenziale dell'agroalimentare del Made in Italy che senza il nostro settore non potrebbe avere la fortuna che ha nel mondo. Ecco, da questo punto di partenza e da quanto ho ascoltato anche da parte degli altri rappresentati dei settori economici sul quale mi trovo su tante cose, devo fare una piccola riflessione ovviamente sulla Brexit perché l'agricoltura, il settore primario in Europa ha sempre avuto un ruolo di particolare importanza. Voi vi ricorderete che fin dalla sua Costituzione gran parte del budget europeo era dedicata all'agricoltura e sull'agricoltura si è fatta diciamo una delle poche politiche teoricamente agricole ed economiche. Ecco, io sto facendo una valutazione, oggi esce il Regno Unito, non uno Stato qualsiasi. Questo ci deve far ragionare, deve far ragionare i governi degli Stati che ancora fanno parte dell'euro che un progetto così come era stato pensato lo dobbiamo dire, è fallito, lo dobbiamo ripensare in modo diverso perché quelle che erano le aspettative dei cittadini e delle realtà economiche e del mondo primario in particolare che vorrei rappresentare si trovano a distanza di anni in una situazione che non trova le proprie soddisfazioni in quello che è stato portato avanti fino ad oggi. La politica agricola comunitaria, se dovessimo vedere oggi i risultati che abbiamo nel nostro Stato, ma guardate non riguarda solo l'Italia, riguarda la Franza, riguarda la Germania dove gli agricoltori sono in grosse agitazioni, bene, se io dovessi dire quali sono stati i risultati ad oggi della politica agricola comunitaria dico assolutamente insufficienti perché se il sistema doveva uscire da una situazione di strutturalmente debolezza, di una debolezza ormai dal quale non si riesce a uscire, ebbene nonostante le grandi risorse profuse, oggi come oggi ci troviamo ancora in questo problema. Io potrei elencare quali sono i nostri settori che riescono a competere bene e ci sono, il vino in particolare, alcuni brand fantastici che ci portano i nostri prodotti in giro per il mondo, ma dovrei fare un lungo elenco di situazioni, specialmente nella nostra area, che sono in crisi, in crisi nera, tante aziende chiudono e chiudere un'azienda significa chiudere un valore sul territorio dipendenti e quindi tutto un sistema sociale che va a ridursi e dal quale poi non si riesce più a tornare indietro. Quindi noi dobbiamo riuscire a sfruttare le risorse che ci arrivano anche dalla comunità europea, di cui il nostro Stato però è un contribuente in senso assoluto, per cercare di uscire da questa crisi strutturale che abbiamo. Non abbiamo tanto tempo, abbiamo la possibilità di farlo, le nostre associazioni, le nostre rappresentanze, che forse è qui bisogna fare anche un'autocritica, perché noi la facciamo spesso alla politica, qualche volta siamo più resti a farla al nostro interno, è rimasta troppo ferma, troppo ferma al passato. Noi abbiamo un'agricoltura ormai bloccata su un sistema che era valido dal dopoguerra in poi e oggi abbiamo ancora le stesse divisioni, abbiamo ancora visioni completamente diverse che si rapportano forse a motivazione politica che una volta avevano un loro significato, oggi non ce l'hanno assolutamente più. Noi dobbiamo guardare alla nostra rappresentanza in termini di imprenditori che ci prestiamo a dare un aiuto al sistema più generale, ma dal quale dobbiamo avere una visione assolutamente legata al nostro settore economico e non ad altre ragioni, perché altrimenti ne faremmo solo un danno. Oggi abbiamo un'opportunità per cercare di trovare delle soluzioni, le dobbiamo cercare insieme noi imprenditori, le nostre associazioni di rappresentanza. Speriamo che nel futuro non siano più così tante, ma cerchino di arrivare a una semplificazione assolutamente opportuna e poi ovviamente alle istituzioni, perché allora se riusciremo a fare una squadra, da questo punto di vista delle possibilità ci sono. Adesso alcune brevissime riflessioni. Si è parlato anche all'inizio del TTIP, questo trattato, questo accordo che si vuole trovare sul commercio e gli investimenti tra noi e tra l'Europa e gli Stati Uniti. Probabilmente l'uscita del Regno Unito non faciliterà questo discorso, perché è un elemento importante. Noi dobbiamo guardare con positività all'idea di allargare il mercato, perché le nostre aziende hanno bisogno di allargare i propri orizzonti. Noi dobbiamo esportare, il mercato interno non è assolutamente sufficiente per assorbire le nostre eccellenze, noi le vogliamo portare all'estero. E quindi benvenga un trattato internazionale con gli Stati Uniti che ci apre a un mondo di possibili nuovi cittadini che vale 500 milioni di persone, ma cercando di liberalizzare gli scambi. Però lo dobbiamo guardare con attenzione, come è stato detto, con un'assoluta attenzione. Perché noi abbiamo delle caratteristiche che non possiamo svendere di fronte a niente, perché piuttosto che fare un cattivo trattato è meglio non farlo. Noi abbiamo degli esempi positivi, tipo il trattato con il Canada, che adesso è stato portato all'osservazione della politica. Credo che da questo punto di vista si possa partire. Certo, dobbiamo porre un limite a quegli accordi bilaterali che ci hanno visto approvare degli accordi con i paesi, per esempio, del Nord Africa, che nel nome della solidarietà che posso assolutamente comprendere, hanno penalizzato in maniera fortissima i nostri produttori del centro-sud. Su alcuni settori specifici, come l'olio d'oliva, il settore agrumicolo, queste sono cose inaccettabili, nel senso che se noi dobbiamo trovare un accordo con altri paesi e li dobbiamo sostenere perché sono in un momento difficoltà, non lo possiamo barattare compromettendo il nostro tessuto economico così importante in alcune zone del paese, e direi per tutta l'Italia, in senso lato. È una cosa che non si può comprendere, perché una volta che l'abbiamo distrutto, e siamo bravissimi a distruggere le cose, alla fine non riusciamo più a recuperarle. Vi farò un piccolissimo esempio, visto che tra le mie attuali incarichi io rappresento anche il settore biticolo nazionale, che era un settore zucchero in particolare, assolutamente di prima rilevanza. L'abbiamo svenduto in Europa, abbiamo ceduto a interessi dei paesi del Nord, abbiamo accettato di prendere soldi per non produrre. Oggi qual è il risultato? Che a fronte di un sistema che produceva valore fondamentale per l'agroalimentare italiano, abbiamo smantellato i nostri zuccherifici in giro per l'Italia, specialmente concentrati qua del Nord, ma non solo, per avere solo una piccola ancora presenza e abbiamo svenduto il nostro sistema. Ecco, con tutta una serie di fornitori del sistema e di lavoratori che erano impegnati in questo settore così importante. Noi dobbiamo cercare di recuperarlo, noi come associazioni stiamo cercando di trovare nuovi sviluppi da questo punto di vista, cerchiamo di cogliere le opportunità che ci vengono proposte sulle agroenergie, sempre nel settore biticolo, vi faccio questo esempio. Certo che però abbiamo bisogno di risposte rapide, perché noi dobbiamo fare investimenti, dobbiamo traguardare un futuro che non sia troppo lontano per non arrivarci già morti. Ecco, c'è tutta questa relazione che dobbiamo avere con la politica che ci deve aiutare per competere sui mercati internazionali. Piccola riflessione sulla politica agricola, ve l'ho fatta su quella comunitaria, dobbiamo capire che la situazione non sta migliorando, abbiamo cambiato la politica l'anno scorso, almeno i filoni generali che dovevano rivederla, rimodernizzarla. Siamo oggi in una situazione che è decisamente peggiorata rispetto a prima. La politica comunitaria ci ha obbligato a fare investimenti per ottenere dei sostegni che vanno in direzione opposta alla competitività. Ci hanno obbligato a fare il cosiddetto greening, che di greening assolutamente non serve per tutelare l'ambiente. Per tutelare l'ambiente abbiamo bisogno di aziende che siano sul mercato, che possano competere e investire nel sistema. Noi siamo i primi a voler avere un territorio sul quale operiamo che sia compatibile dal punto di vista ambientale e quindi ci vogliamo impegnare, ma se noi ammazziamo le aziende agricole non ci sarà nessuno che tutelerà il territorio. Da questo punto di vista dobbiamo anche capire che il nostro modello che ci siamo costruiti in Italia non sta funzionando, perché a fronte di problemi che ci hanno creato in Europa, basati su altre logiche, noi in Italia siamo riusciti a complicare la vita ulteriormente. Abbiamo un ente pagatore, il cosiddetto Agea, non cosiddetto, che si chiama Agea a Roma, che invece di migliorare progressivamente nel tempo è continuamente peggiorato e questo ha causato tutta una serie di problematiche legate anche alle regioni che si erano dotate di un proprio ente pagatore, perché la relazione è saltata. Quest'anno abbiamo raggiunto i massimi livelli di ritardi. Ecco, sulla Agea è una riflessione, bisogna farla. Vediamo come posso dirla. Bisogna raderla al suolo, bisogna rifarla. Non possiamo pensare di mandare via un commissario per mettere uno nuovo, non c'è questa possibilità. Dobbiamo avere il coraggio di rifare le cose. L'agricoltura 2.0, non siamo arrivati al 4.0, non sta funzionando. Dobbiamo avere il coraggio di ripensarla. Uno dei temi, una delle riflessioni che dovevo fare riguardavano la grande distribuzione. Io guardate, non sono di quegli imprenditori agricoli che pensano che la grande distribuzione sia in assoluto il nostro nemico. Tutt'altro, noi dobbiamo riuscire a trovare quegli equilibri in un ragionamento che possiamo fare con loro e soprattutto con una certa grande distribuzione. Io mi augurerei che con quella parte italiana di grande distribuzione che è rimasta si possono fare dei ragionamenti che abbiano più senso per cercare di portare anche il nostro agroalimentare non solo in Italia ma anche fuori, trovare nuovi equilibri. Secondo me ci sono delle possibilità, le nostre associazioni ci devono aiutare a fare questo tipo di percorso. Noi come Confagricoltura stiamo cercando di agevolarlo. Io spero che insieme si ritrovi quel filone di valori anche economici che devono ovviamente rimanere alla base di qualsiasi trattativa ma che ci possono portare a un nuovo orizzonte. Se ho ancora qualche breve minuto di riflessione. In agricoltura, io ve l'ho detto prima, siamo rimasti indietro per molte parti ma gli imprenditori agricoli sono andati avanti, hanno corso, hanno investito, hanno portato all'estero i propri prodotti in maniera assolutamente di successo. Le strutture che sono intorno al mondo dell'agricoltura non sono cambiate. Questo sistema sostanzialmente di monopolio che c'è in varie infrastrutture agricole è questo che dobbiamo scardinare. Lo dobbiamo cambiare perché quello che andava bene 30 anni fa, 40-50 anni fa come era stato pensato, forse oggi non è più il sistema che ci aiuta, forse sta diventando un appesantimento. Dobbiamo cercare di rivedere queste posizioni laddove ci sono contributi poi pubblici che vanno. Un sistema di monopolio che sia un'associazione piuttosto che un'altra non va bene per definizione. E poi c'è un punto che a noi, come tutti gli altri settori economici, sta particolarmente a cuore. Ricerca e innovazione. In agricoltura ci siamo fermati da decenni sulla base di pregiudizi e di logicità che non hanno più senso oggi. Perché noi dobbiamo competere sui mercati internazionali. Io la mattina quando mi sveglio guardo cosa fa il Chicago per poter vendere le nostre commodities interne del nostro consorzio. Guardo il Matif della Francia per vedere a che punto è arrivato il grano e su quello facciamo le nostre previsioni. Però se vogliamo competere in maniera consapevole dobbiamo avere anche gli strumenti per poterlo fare. All'estero, Stati Uniti, al di fuori dell'Europa hanno fatto grossi investimenti in ricerca, da noi la ricerca è stata bloccata. Noi non possiamo pensare che il Made in Italy da solo possa risolvere tutti i problemi. Certo è un valore aggiunto, come è un valore aggiunto l'etichettatura dei prodotti, ma da soli non riusciamo, con solo questi strumenti, non riusciamo a competere. Perché il valore che viene dato, il prezzo anche nei nostri prodotti ha un suo significato. Dobbiamo avere quelle competenze in ricerca e innovazione che ci possono permettere di trovare nuove soluzioni che sono a portata di mano. Quindi non dobbiamo nasconderci dietro questo. Ascoltiamo la comunità scientifica, così come abbiamo ascoltato i professori che adesso ci sono venuti prima a relazionare, perché da questa parte possiamo ripartire. E l'ultima osservazione, consentitemi, se noi diciamo che l'agricoltura e il territorio sono importanti per l'Italia, perché noi siamo un grande paese, un po' lungo, con alcune diversità, con una grossa densità abitativa, una cosa non possiamo più permetterci di rovinarla. Il suolo, il suolo agricolo, come il suolo ambientale in senso lato, deve essere tutelato e noi ancora non lo stiamo facendo. Stiamo perdendo enormi superfici. A un certo punto ci accorgeremo che è diventato troppo tardi e non riusciremo più a tornare indietro. Grazie.